28 novembre 2011. Maestro Asceso Arcangelo Uriel. Canalizzato da Edith Seferian. Presiede l'Arcangelo Uriel. In attesa dell'intervento di Metatron. Al plenilugno di dicembre. Arcangelo Uriel questa sera, mentre guidavi per recarti a questo appuntamento, hai visto in cielo il primo filo di luna nuova. È già l'inizio dell'ultimo capitolo, che riguarda l'evoluzione dell'attuale momento, che voi state vivendo. Ci sono 3 o 4 giorni, poco prima della metà del prossimo mese, che saranno di grande importanza per lo sviluppo di queste terre e per il futuro di queste terre. Sono delle vere e proprie doglie per far nascere una creatura, una creatura, che da sempre, anche durante la gestazione, ha covato in sé le litigiosità, le contestazioni. Ora è arrivato il momento importante per superare questa crisi lunga più di due millenni. Quelle Gregorie è fissato in quello che, nella realtà eterica, rimane del muro che divideva quella grande città, si tratta di Berlino, punto centrale per il futuro delle vostre regioni. È il turno di nostro fratello Metatron Michael Raffael con l'elemento metafisico Fuoco è intervenuto al plenilugno d'agosto. Raffael è intervenuto al plenilugno di settembre con l'elemento metafisico Aria. Gabriele è intervenuto al plenilugno di ottobre con l'elemento metafisico Acqua. Uriel è intervenuto al plenilugno di novembre con l'elemento metafisico Terra. Mentre Metatron interverrà alla luna piena di dicembre, che in quei giorni interverrà per riequilibrare ciò che è possibile equilibrare, riequilibrare. Ognuno di noi quattro fratelli è intervenuto con il proprio elemento metafisico a ogni luna piena, iniziando da quella d'agosto. Questo è l'ultimo appuntamento. Ognuno di noi ha portato il proprio contributo tramite il proprio elemento metafisico, ma non è sufficiente. determinante dovrebbe essere, appunto, l'ultimo elemento metafisico, eterno giocattolo di nostro fratello Metatron. Egli interverrà, è legato alle maree lunari interplanetarie. È legato alla Natività. Noi cinque fratelli abbiamo chiesto l'aiuto di tutti e questo aiuto, questa richiesta di aiuto lo rinnovo anch'io oggi. Luce. Inviate luce a quella porta storica del centro del vostro continente. Al mattino quando vi svegliate o alla sera poco prima di addormentarvi. Cercate di ricordarvi, sarà di grande aiuto per l'ultimo nostro intervento, per far sì che nasca e si instauri un equilibrio. Vi chiediamo di vivere questa esperienza con distacco, senza prendere le parti di uno o le parti dell'altro. Se volete prendere le parti di qualcuno, pensate unicamente al futuro di questo continente. Quella razza ha sempre voluto dominare, si sentiva forte, giovane e tuttora si sentono giovani e forti, e lo sono. Ma dopo più di due millenni di contrapposizione, con l'inizio del nuovo ciclo, della nuova era che chiamate Aquario, le vibrazioni esigono che quella razza volti pagina e interpreti un altro compito. Non quello di dominare per dominare, ma quello di equilibrare tutto il continente. A suo tempo o a più riprese hanno fatto sacrifici enormi per dominare. Ora il loro karma storico collettivo, chi li unisce al karma storico collettivo delle altre razze, che vivono in questo continente, è quello di dirigere e installare e fissare l'equilibrio, perché possano iniziare a fiorire le attività del nuovo ciclo. È una nascita e, come in tutte le nascite, ci sono le doglie. Inviate amore e luce, soprattutto in quel centro ai piedi di quella storica porta di Brandeburgo, inviate luce. Luce. Che questa luce sia luce stellare sfavillante. È l'unica luce che può aver ragione degli squilibri. Tutti siamo coinvolti in questa evoluzione storica, che coincide con l'inizio della nuova era dell'acquario. Ognuno di noi ha un compito, noi lo eseguiamo, vi chiediamo di eseguirlo anche voi. Ricordatevi inviate luce stellare in quella piazza dietro l'arco di quella porta storica. Solo la luce sfavillante può aver ragione riequilibratrice. Tutti devono partecipare a questo grande evento. Vorreste che io vi dicessi vorreste che io vi anticipassi qualcosa. Vedete, è come quando nei vari momenti di maturazione, ancora giovani, vi presentate a quelli che chiamate maestri, che ne sanno più di voi, per superare degli esami. Ecco. Comunque questo è un esame che dobbiamo superare tutti assieme, non solo voi. ognuno ha il suo compito. Vi chiediamo di essere coscienti e consapevoli di quello che fate quando invierete la luce stellare in quel punto. Questo è un grande dono, è un dono, che fate a voi stessi e all'umanità in risonanza con le nuove vibrazioni, che alleggiano nell'atmosfera di questo inizio di nuova era. Io penso che ognuno di voi si è reso conto del cambio di vibrazione. Questi mutamenti non avvengono da un giorno all'altro. Però all'improvviso, dopo un po' di tempo e di anni di disattenzione, ognuno di voi che è sensitivo ed è sul sentiero, sente che è definitivamente cambiato qualche cosa. Ecco, vedete, i mutamenti avvengono in questo modo? È il nostro compito di calmierare l'evoluzione di questi mutamenti. Le falangi celesti hanno eseguito un'operazione, che non era mai stata svolta sui piani sottili dell'evoluzione dell'umanità e del pianeta Terra. Abbiamo eretto un muro nei giorni di fine millennio, perché tutto ciò che era della vecchia era ricadesse su se stesso e non potesse creare un pasticcio, una sedimentazione pasticciata all'inizio della nuova era dell'acquario. Per il momento questo rivoltare gli eventi storici della vecchia era ha funzionato e il pianeta Terra, come una vera madre ha accettato di ritorno queste dolorose vibrazioni e le sta digerendo, le sta sistemando ed equilibrando nei propri equilibri statici. Il comportamento fisiologico di vostra madre Terra Gaia è esemplare. Dovreste inviarle un attimo d'amore cosmico come ringraziamento, perché questo lo fa in sacrificio, in vero sacrificio. Vedete tutto ciò che avviene si trasforma, ma non si annulla, non sparisce, si trasforma e vostra madre Terra ha accettato in sacrificio, in grande sacrificio, questo. È vero i suoi sussulti in un modo o nell'altro si fanno sentire, ma sono fisiologici, è inevitabile. Voi pensate magari che ciò che avviene fisiologicamente a livello terreno non possa avvenire contemporaneamente anche sui piani di vibrazione sottile. Ma è un tutuno. Non ci stancheremo mai di spiegarvi questo grande principio è un tutuno. Con un'infinità di sfaccettature, che sono la ricchezza di questo tutuno. Quindi ricordatevi di mandare un attimo di amore cosmico a vostra e nostra madre Terra. Questo è il vostro compito per i prossimi quindici, venti giorni. Sono importanti, sono quelli che precedono la nascita. Strano, direte, queste due nascite una vicino all'altra, due ricorrenze. Inviate amore alla Terra e sfabillante luce stellare in quel punto, nel cuore del vostro continente. Anzi prendete come figura la prima e l'ultima scintilla nel cielo, prendete il brillare del pianeta Venere e il tramonto di Venere. Prendete questo sfabillare e lanciatelo, sarà amore cosmico simbolico e luce stellare sfabillante al contempo. Siamo tutti presenti e noi stessi, altrettanto sia per voi. Siate consapevoli del momento storico fisiologico della Terra nella dimensione terrena di elemento metafisico Terra e nella dimensione dell'umanità, che vive sopra la Terra. Vi salutiamo. Siamo sempre presenti. Vi benedico e invito a essere testi e pronti all'azione per le prossime due o tre settimane. guardate in cielo e quando vedrete la luna tonda sappiate che da quel giorno, per altri due o tre o quattro giorni, nostro fratello Mettatrone interverrà con il nostro aiuto, interverrà come il solito bimbo cresciuto e che ancora si permette di giocare con i poliedri equilibratori di tutto ciò che avvita, soprattutto in ogni singolo umano, in ogni singola scintilla divina dell'umanità. In questo suo giocattolo poliedrico non ci sono altro che i cinque elementi metafisici, che compongono anche il vostro essere. Vedete, una grande trasformazione anche per il nostro fratello Mettatrone, perché il suo splendido misterioso giocattolo sta assumendo un nuovo aspetto. Approfondite i principi di questo giocattolo simbolico. Non è altro che la vostra intima natura e consistenza. Vi do appuntamento per quei giorni e vi saluto.